Viva la rasa amici appassionati di wrestling Allora Le mie opinioni a freddo Direi molto freddo Su Elimination Chamber Molto 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 Ci prova ad essere rapido ma insomma Si finisce sempre con 20 minuti di video Allora Elimination Chamber femminile E come avevo detto rimanevano loro 4 Indubbiamente Sonia Deville Mandy Rose Attualmente non sono in grado di poter competere Mandy Rose per me è la classica ragazza copertina Sonia Deville secondo me Verso ottobre novembre potrebbe iniziare a dire la sua per il titolo O perlomeno avere una chance E sono rimaste le magnifiche 4 Sicuramente se la poteva giocare meglio Sasha Banks Ma questa rivalità che poi è stata praticamente confermata a Raw Tra Bailey e Sasha Banks Non ha fatto altro che Non ci ha praticamente quasi consegnato questo match a Wrestlemania Quindi va bene per Alexa Bliss Adesso vedremo Vedremo se Asuka Insomma cosa deciderà Se andare contro lei O contro Contro Charlotte O comunque la campiesta di SmackDown A me personalmente Piacerebbe molto Ma veramente molto Vedere Charlotte contro Asuka È un match che vorrei vedere Poi Vinca Vinca Chi vinca Match di coppia Francamente Totalmente inutile Sia È stato un match riempitivo Sia quello Sia Bray White Contro Matt Hardy Cioè io nemmeno li avevo presi in considerazione Questi match Nella Nelle mie previsioni Proprio Non li avevo proprio Conteggiati Quindi Match Che valgono zero Se vogliamo dare un voto All'Elimination Chamber Femminile Sicuramente c'è ancora da lavorare Come ho detto per la Royal Rumble Però alla fine il match è stato È stato scorrevole È stato Piacevole È stato È stato un buon match Per essere il primo Insomma è stato un buon match Ronda Rusei Confirma il contatto di Ronda Rusei Anche qua Si era capito subito Dalle prime inquadrature Di Triple H e Cortangle Come sarebbe andato a finire E Su questo Gli scrittori Dovrebbero Non riciclare sempre Idee Vecchie Sono cose che abbiamo visto E rivisto È già scritto Cortangle E Ronda Rusei Contro Contro Triple H e Stephanie A Preston Manium Francamente Anche questo È stato un grosso spoiler Per noi che vediamo il wrestling Da Da qualche anno Non si è capito subito Come sarebbe andato a finire Certo Parliamo Atleticamente Se così possiamo dire Ronda Rusei Che faranno Lo so 70-80 kg 85 Non so precisamente Quanto pesa Alzare Triple H Alzare Triple H Per rischiere francamente C'è poco da dire Poco da dire A parte Il risultato Che era Scontato Chiamato Insomma Qualsiasi cosa Gli vogliamo dire Sul risultato Sarebbe inutile Perché Doveva vincere Roman Reigns Purtroppo Penso che Internet O comunque Tutto il contorno Del wrestling Adesso Ora come ora Ci rovini Il risultato Poi magari La prestazione Può anche sorprenderci Ma il risultato Noi sappiamo Vedendo il contorno Ci possiamo immaginare Spesso Chi sarà il vincitore E Insomma Era sicuro Che vincesse Roman Reigns Si vocifera Tanto 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 Tempo Questo match E alla fine Questo match Sarà Però Ci metto Un bel però Su questo match Cosa dire John Cena Mi ha molto deluso Inutile dire Anche una cosa Direi una cosa Scontata Direi che Braun Strowman È stato il migliore In campo Se così possiamo Chiamarlo Cioè Ha fatto Veramente Un match Non lo so Non saprei Non è mai esistito Un match Così Nella storia Penso che Abbia battuto Molti record Ha aiutato Anche dal fatto Che il match Era a set Però Li ha schienati Tutti Lui Porco Giuda Li ha schienati Tutti E questa Quando è entrato Che gli sono messi Praticamente Quattro Cinque Contro Uno E lui Si è alzato Dalla doppia Powerbomb Dalla Spear Dai Pugni Superman Punch Si è alzato Veramente Da tutto Quindi per questo Dico che Questo match C'è un bel Però Perché E vabbè Chiudendo la parentesi Elimination Chamber Dico che Anche la Chamber Maschile È stata Gradevole Anche Anche qui Il risultato Era scontato E Ha fortificato Qualora ce ne Dovesse essere Bisogno Il personaggio Braun Stroman Che Inizia ad essere Sempre più Invattibile O comunque Perde per Cazzate sue Non per Meriti Degli avversari Dimenticavo Asuka Contro Naya Jax Molti L'hanno Definito Il match Della serata Secondo me Non c'è stato Un vero e proprio Match Della serata Perché Comunque Asuka Che L'atleta Che io Abbia L'atleta Femminile La donna Migliore Che io Abbia Mai Visto In assoluto Ho detto Che avrebbe Vinto Sporco Nel senso Senza Una vittoria Chiara Ha vinto Per un roll up Cioè Per l'amore di Dio Si vince Anche così Si vince In tanti modi Si vince Per squalifiche Per conteggio Fuori E si vince Anche per un roll up Per l'amore di Dio Si vince Per un errore arbitrale Ma non è stata Una vittoria Schiacciante Non c'è stata Una sottomissione Non c'è stato Un conteggio Di tre Dove Naya Jax Avesse subito Una mossa Una super DDT Un salto dal paletto Ha vinto Con un roll up Che È una vittoria Pulita In senso Di risultato Ma Sporca Per quando Riguarda La cosa Cioè se Una cosa del genere A una A una Baili Non avrebbe potuto Farlo Perché Baili Ha un fisico Che Gli avrebbe Permesso Molto probabilmente Di uscire Dal roll up Quindi Va bene Adesso vediamo Anche questa Questa rivincita Tra Naya Jax E Asuka Vediamo come Andrà la storyline Vingerà Asuka Però secondo me Naya Jax Potrebbe Qualora Asuka Decidesse di andare Contro Charlotte Giocarsi Se sei carte Contro Alexa Bliss A presto E O magari Ci sarà Un match A squadra Adesso Sul titolo Femminile C'è ancora Qualcosa Da dire Però Tutto Sommato È stato Un buon Pay per view Detesto Il nuovo Format Dell'Elimination Chamber Veramente Brutto Perché In Elimination Chamber Ci si deve Far male Questi Non esce Manco Più il Sangue Ho capito Per la salute Degli Atleti È diventato Un prodotto Più per Famiglia Più Tutto Quello Che vuoi Però Secondo Me In Certi Eventi Non Dico Tanti Ma Almeno Extreme Rules Elimination Chamber E Alline Selle Si deve Chiudere Un occhio Su queste Cosa Cioè Si Devono Tra virgolette Fare male E Va bene La spettacolarità Ma Hai tolto Le bocche Di Cioè Cioè Con i tappetini Dai Eh Vabbè Ho detto la mia Ho Chiuso la parentesi Elimination Chamber Lancio una Grossa 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 Enorme Provocazione Per quanto riguarda Il proseguo Della road Through Rester Mania Che comprende Siamo Un po' Ruvo Un po' Smackdown A John Cena E' andato a fastland Per il titolo Ma non vincerà Assolutamente E Il match Di Ej Nakamura E' stato chiamato Da Tempo In Memor Quindi Secondo me John Cena Potrebbe avere Diciamo Due strade A fastlane O vincerà il titolo E ci sarà un Triple Threat Che Secondo me Potrebbe essere Un gran bel Triple Threat Oppure Si andrà Nel single match Come hai detto Ej Contro Nakamura Faranno il loro Match Della serata E a questo punto Questa Ipotetica Strade Di John Cena Fuori da Presta Il Manion Può Sbocciare In varie strade Allora Secondo me Strada numero Uno Il match Tanto cantato L'ultimo match Di Undertaker L'ho sempre detto Sempre lo sponsorizzerò Non sarebbe Sarebbe solo un match Da sogni Ma secondo me A livello qualitativo Sarebbe di basso livello Perché Sono Undertaker Oramai Da anni Che Nemmeno un Part-timer È un match L'anno Una pre-stermania L'anno E comincia A avere l'età John Cena È un part-timer E insomma La ruggine Gli infortuni L'età Tutte queste cose Iniziamo a vedere Qui secondo me Non sarebbe Un bel match Ma sarebbe un match Che comunque Vorrei vedere Match numero Uno Match numero Due Quello che ho detto Triple threat match Qualora John Cena Vincesse Il diciassettesimo Titolo mondiale Match numero Tre Si parla Di un Di un ritorno Di Rey Mysterio Praticamente A giorni Deve fare un match Contro Con la New Japan Contro Una leggenda Giapponese Adesso Non mi ricordo Bene il nome Un super mascherato Troppo figo Da guardare Ma solo questo match Una volta fatto Quello nella New Japan In California Dove lui Abita E Sarebbe libero Di tornare In WWE E quindi Potrebbe sfidare John Cena John Cena Contro Rey Mysterio Hanno fatto Bei match In passato E mi piacerebbe Rivederli Uno contro Uno E qua L'angelo Provocazione Più Grossa Di Tutti E una Super Mega Iper Provocazione Allora Sappiamo Cosa è successo A Brock Lesnar Cioè Mentre I colleghi Si facevano Il culo Ad Elimination Chamber Lui Se ne è andato Col presidente Della UFC E si è fatto Fotografare Con la maglietta UFC Benissimo La dirigenza È incazzata E ha anche Le sue Ottime ragioni Per essere Incazzata E Brock Lesnar Farà Qualora Tutto andasse Secondo i piani Il suo ultimo match Sarà Vrestelman Poi torna In UFC Lui Dà il wrestling Non ne vuole più Sentire parlare E Per chi ama Il wrestling Come me È anche giusto Perché Non possiamo Avere un campione Da un anno Senza Che difende La cintura Ogni 3-4 mesi Francamente È una cosa Che a me Non piace Molti sono Divisi Su questa cosa Però È vero anche Che Brock Lesnar Quando è stato chiamato In causa Fatto pubblico Allora Adesso ha fatto Una cappellata A livello Personale E contrattuale Dall'altra parte Roman Reigns È in uno Scandalo steroidi Dove Se non lo sapete E Allora È stato Beccato Beccato Un Pinco pallino Che vendeva steroidi Fin qua In America Gli steroidi Sono anche Sono Insomma Sono legali In alcuni sport Oppure Puoi prenderli Anche nel wrestling Dove sono vietati Sotto prescrizione Medica Fin qui Nessuno Nessuno Dice niente Allora In questa lista Di Di persone Cioè Questo Questo è stato Beccato In questa lista C'era anche Roman Reigns Che ovviamente Ha detto No 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 Io non c'entro niente Io non c'entro niente Io non c'entro niente Un filmmaker Ha detto Che Questo weekend Farà Un documentario Un giornalista Filmmaker E Mi pare uscirà Su Youtube Comunque Una cosa Sarà anche gratis Da vedere Dove lui Assicura In Tut Proprio Con certezza Pressoché Matematica Che Roman Reigns Ha preso Questi cazzo Di steroidi Però C'è un piccolo Però Lui ha detto Io mi sono Fermato Nell'anno 2016 Qualora Si fermasse Lì la cosa Perché C'è da analizzare Già tutto il 2017 Qualora Si fermasse A 2016 E Praticamente Lui è stato Già toppato Dalla compagnia E è stato Sospeso A suo tempo Quindi Avrebbe Avrebbe già Scontato La pena Era stato Già toppato Anche se Negarlo Tu sei stato Già toppato Sei pulito Anche se Negarlo Insomma Gli getterebbe Un po' Di fango Addosso Quindi Questo documentario Lui Questo filmmaker Dice Che ha tutte le prove Per incastrare Roma A Reigns Per quanto riguarda Il 2016 Ma poi si farà Anche il 2017 E se ci sarà Anche nel 2017 Sicuramente Verrà Sospeso Quindi Quindi Braun Strowman C'è C'è Questo C'è una situazione Particolare Allora Brock Leser Sta sulla Graticola E Vince McMahon Alla fin Vina Chiappa Lo licenzia Gli toglie il titolo Come ha fatto con Enzo Anche se Voglio dire Stiamo parlando di Due pesi Un po' Un pochettino Diversi Prende Brock Leser Gli toglie il titolo Lo licenzia E il titolo Rimane vacante Allora abbiamo Roma Reigns E se Roma Reigns Viene pizzicato Che realmente Ha fatto Uso di queste cose Togliamo anche Roma Reigns E chi cazzo Ci va a presto Emenia Per il titolo Io una mezza idea Di provocazione La butto là John Cena contro Braun Strowman Perché oggettivamente Braun Strowman è l'unico Che Sta in quel giro No Ed è credibile E l'unico avversario Credibile Che rimane a Braun Strowman Forse veramente Sono John Cena Undertaker Alt Ma Randy Orton Non c'entra Sta SmackDown Sta all'ottavo Per il titolo secondario Sono gli unici due Che Qualora succedesse L'impossibile Potrebbero andare Per il titolo Universale Vacante Io la provocazione L'ho buttata L'ho buttata qua E ho anche Un'altra sensazione La prossima Presta del Mania La prossima Quindi parliamo Tra un anno Un anno E qualche mese Il main event Non Il main event Dei main event Sarà Asuka Contro Ronda Rausi Per il titolo De campionista Del mondo E qua Chiudo tutto Ciao raga Alla prossima Ci sentiamo per Fastlane Viva la razza Sempre